Nuove costruzioni a Torammare, Poggio Franco, San Paolo, Palese e Iapigia, riqualificazioni a Bari Vecchia, in Via La Neve, a Madonella, in tutto 8 progetti per 16,8 milioni di euro, pioggia di fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la costruzione e la riqualificazione di asili nido nel capologo pugliese. Il finanziamento, secondo Palazzo di Città, colmerà un gap storico di servizi pubblici rivolti alla prima infanzia sull'intero territorio comunale. I progetti presentati dal Comune di Bari che rispondono alla missione 4 del PNRR prevedono tempi di realizzazione che vanno dai 3 mesi ai 3 anni per le strutture che devono essere riqualificate e dai 3 anni ai 6 anni per le scuole dell'infanzia che devono essere realizzate ex novo. Le strutture saranno progettate secondo i più moderni standard funzionali ed energetici, mentre la riqualificazione messa in sicurezza di immobili scolastici esistenti, la cui costruzione risale a molto tempo addietro, nel tempo necessiteranno, come per la Diomede Fresa di Bari Vecchia o la Regina Margherita di Madonella, di interventi mirati per assicurare spazi adeguati alla cura e al benessere dei più piccoli. Sin dal 2014, continuano gli assessori alle opere pubbliche e all'istruzione Galasso Romano, ci siamo impegnati nella realizzazione di nuovi asili, aprendone ben 4, cui si aggiungono due centri ludici ed estendendo l'orario di apertura di tutte le strutture fino alle 18. Questo finanziamento perciò rappresenta una grande occasione per aumentare di circa 600 posti l'offerta pubblica della città di Bari, dotando, concludono, ogni quartiere di almeno un asilo nido.